Come giudica l'atteggiamento del Governo in questa crisi per il contagio di coronavirus? Io intanto giudico l'atteggiamento dell'Italia, che mi sembra molto caotico, cioè delle varie istituzioni che continuano un po' a scaricarsi la responsabilità. Credo siano stati fatti degli errori, in particolare all'inizio quello di non lavorare sull'isolamento e la quarantena, piuttosto che sulla chiusura dei voli, e adesso ancora quello di non dirigere a livello nazionale. Altro che Salvini che chiede che ci si divida per comuni per gestire un'emergenza nazionale, ma sono cose da pazzi. Quando c'è un'emergenza nazionale il Governo, lo Stato, dice cosa si deve fare, perché se tu chiudi un comune e lasci aperto un altro non serve assolutamente a niente. Si vede che Salvini veramente in vita sua non ha gestito nulla. Ci sono anche presidenti di regione che sembrano in questo senso non essersi allineati ai dettami del Governo. Secondo me è sbagliato, la risposta deve essere coordinata. Noi stiamo dando un'immagine di risposta non coordinata, che rischia di fare molti più danni del virus stesso. E su questi i danni economici saranno ingentissimi. Io non potrò andare in Parlamento europeo la prossima settimana perché sono in quarantena, perché sono stato a Padova, ma mi sembra che abbiamo dato l'impressione di un Paese che è un po' in balia e invece di governare è una cosa grave, ma che va governata. Per i risvolti economici del coronavirus, qual è la ricetta? Guardi, la cosa che bisogna fare è innanzitutto avere un intervento mirato sui piccoli esercizi commerciali e turistici per quanto riguarda le aree colpite e quindi da una diminuzione ad hoc della tassazione che deve essere autorizzata dalla Commissione europea. In questo lavoreremo già al Parlamento a Strasburgo, alla prossima seduta di Strasburgo e dall'altro lato la ricetta è sempre la stessa, quella di stimolare gli investimenti e non buttare i soldi regalando un miliardo a Mittal e buttare altri miliardi sull'Italia.